Simone Alessandrini definire il suo ruolo è sempre molto difficile, tutto campista va bene, quindi abbracciamo tutti i ruoli del campo, ho visto che tu inizi con un ruolo, finisci con un altro, in mezzo ce n'è un altro ancora, anche oggi partita di grandi quantità, di grandi qualità la tua. Sì, grazie innanzitutto, le richieste del mister sono queste, ci si attiene alle richieste del mister che per ora vanno bene così. Anche perché voi accogliete tutte le richieste sempre con il sorriso, vuol dire che il gruppo c'è, esiste ed è forse la forza è questa. Sì, la forza è decisamente il gruppo, il mister sta facendo delle richieste particolari, difficili, però le stiamo seguendo tutti e per ora le cose stanno funzionando. Anche perché non si perde. Sì, per adesso non si perde, va bene così. E' un'altra partita comunque, questa era difficile rispetto alle altre perché non il solito fraseggio, non il solito gioco di impostazione dal basso, quindi è cambiato anche qualcosa, però gli interpreti siete sempre gli stessi, avete cambiato anche nella mentalità, sapete adattarvi ad ogni tipo di situazione. Sì, assolutamente sì, oggi le richieste sono sempre quelle di provare a giocare, oggi non si poteva, obiettivamente non si poteva perché hai visto la partita e abbiamo giocato il meno possibile, due o tre passaggi e poi si andava in verticale. Però abbiamo visto che nel finale voi avevate maggiore forza nel controllo della partita, cosa che forse gli avversari non hanno avuto o hanno perso. Sì, siamo stati bravi a controllare anche subito dopo il 2-0, abbiamo fatto il 3-0 col capitano e dopo è stato più semplice controllare la partita. Tu hai segnato anche dei gol quest'anno, però segnate un po' tutti voi qua ormai. Sì, segniamo tutti perché cambiandoci tutte le posizioni poi ci troviamo tutti da offendere e poi il gol arriva per tutti.